Anche questa settimana bentrovati a tutti. In questa puntata di Insieme ci troviamo a sfogliare tre periodici, gli agricoltori veneti di Confagricoltura Veneto, il Cadore della Magnifica Comunità e il Nuovo Feltrino, periodico di informazione dell'Associazione Santi Martiri Vittore e Corona. Iniziamo con il bollettino informativo della Confagricoltura. Aria nuova in Europa, più pragmatismo e meno ideologia. Se ne parla spesso tra l'altro. La Presidente Ursula von der Leyen sul clima. Gli agricoltori non sono parte del problema ma parte della soluzione. Vediamo un'immagine anche del Parlamento europeo in prima pagina. Non ci soffermiamo in modo particolare sugli articoli che costruiscono questo numero, ci soffermiamo, sostiamo solo brevemente su un paio di pagine che sembrano essere anche interessanti per la nostra curiosità e il nostro interesse. L'articolo di fondo, in terza pagina, Ludovico Giustiniani, Presidente della Confagricoltura Veneto, parla di risposta al cambiamento climatico con la genetica, le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Chi al giorno d'oggi sfalcerebbe a mano o arerebbe con un vomero trainato dei buoi? Leggiamo qualche frammento dell'articolo. Siamo in un contesto dove gli accadimenti in un paese anche lontano influenzano il nostro lavoro di imprenditori agricoli. Parla per esempio anche della guerra in Ucraina, della siccità che asseta milioni di persone in Africa, che hanno anche delle conseguenze sull'agricoltura e sul mondo agricolo in Europa. A fianco di questi eventi parla Ludovico Giustiniani di intelligenza artificiale e lo fa proprio sviluppando questo discorso soprattutto nella seconda parte. Si stima che entro cinque anni a livello mondiale si supereranno gli 8 miliardi di persone e con le pratiche culturali esistenti sarà sempre più difficile sostenere la loro richiesta di cibo. L'agricoltura però più di altri settori produttivi ha una grande sfida da affrontare che è il cambiamento climatico. Come noto l'impatto del clima sulle culture è decisivo per la produzione. Qui parla anche appunto di eventi climatici anche improvvisi che cambiano e mettono a repentaglio anche l'agricoltura, il raccolto che viene poi eliminato e non viene destinato appunto al consumo. Proprio per i cambiamenti climatici che generano questi improvvisi cambiamenti, questi improvvisi temporali, bombe d'acqua che appunto fanno danni. E parla appunto di ricerca, di nuove scoperte, novità che potevano essere d'aiuto nel migliorare le operazioni culturali. Quindi certamente la ricerca e le nuove scoperte. Ecco perché poi parla anche di intelligenza artificiale applicata alle macchine agricole, molto interessante. Per esempio parla anche dei trattori che vengono usati. Noi abbiamo l'immagine probabilmente dei trattori tradizionali. Bene, oggi i trattori sono macchine gestite anche dall'intelligenza artificiale con autopilota, con la capacità di leggere il terreno e tutto quello che riguarda appunto la coltivazione, l'agricoltura e il raccolto. Finiamo l'articolo di Giustiniani. La necessità che l'imprenditore possa da un lato contare su finanziamenti e sostegni adeguati, e dall'altro che i decisori politici permettano all'agricoltura di compiere un'altra significativa rivoluzione culturale e coltorale. Culturale, coltorale, un bel gioco di parole interessante. Con l'accesso a quanto la ricerca offre per migliorare la produzione in quantità e qualità. Sosteniamo, conclude, gli imprenditori agricoli in questo cambiamento che permetterà al settore di essere più resiliente, produttivo, capace di contribuire al contenimento dei cambiamenti climatici, aiutando allo stesso tempo l'intera nostra società. Ecco, ci siamo soffermati un po' su questo articolo interessante soprattutto per il riferimento all'intelligenza artificiale legata appunto anche al raccolto e alla dimensione delle macchine agricole. Sfogliamo qualche pagina, qui ci sono interviste di rappresentanti, anche politici, che hanno voce in capitolo nel mondo dell'agricoltura. Arriviamo a pagina 18 e ci soffermiamo su questo articolo. Problematiche sanitarie ed economiche delle persone anziane. È il presidente ANPA Veneto Sergio Nuccibella. È un'intervista, si chiede al presidente quali problemi stanno vivendo gli anziani in quest'ultimo periodo. Il Covid risponde ha costretto le strutture ospedaliere, sociosanitarie e sociali a concentrarsi per circa due anni sull'emergenza iniziata nel 2020, riducendo l'attività delle normali pratiche sanitarie e sociali da fornire alla popolazione. Soprattutto gli anziani, che hanno maggior bisogno di prestazioni sanitarie rispetto al resto della popolazione, stanno soffrendo questo troppo lento rientro alla normalità. Il raggiungimento degli standard di prestazioni precedenti al Covid non si riesce a raggiungere. Un altro grande problema che assilla gli anziani in questo periodo è quello economico. È molto più difficile, dice ancora, oggi con praticamente la stessa pensione di due anni fa, pagare le bollette, andare a fare la spesa e far quadrare i conti del bilancio familiare. Leggiamo ancora una risposta in modo particolare. Le esigenze delle persone anziane in ambito sanitario sono, come prima accennato, la necessità di avere visite di controllo specialistiche, ritornando agli standard e alle tempistiche pre-Covid. Un altro aspetto importante è quello del rapporto diretto con il proprio medico di base. I giovani e le persone adulte possono prenotare e normalmente aspettare qualche giorno per avere la visita del proprio medico di base. La persona anziana ha invece bisogno di un rapporto più diretto e immediato con il proprio medico. Certe patologie dell'anziano devono essere prese in considerazione in tempi celeri al fine di evitare inutili sofferenze alla persona. Sono parole semplici, ma che fanno e danno, come sempre, a pensare sulla situazione attuale e soprattutto sul rispetto appunto dovuto a chi ha il diritto di essere curato, perché il diritto alla salute è un diritto fondamentale, inalienabile per tutti. Continuiamo ancora a sfogliare qualche pagina, un po' più avanti. Ci soffermiamo a pagina 32 di questa ricca e intensa rivista, diverse pagine. Mi soffermo su un articolo qui a fondo pagina. Vendemia 2023, Prosecco e Caporalato. È interessante il titolo. L'opinione di Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, che è il presidente di Confagricoltura Treviso. Tra i temi che affronta, mi fermo su questo in fondo. Netta presa di posizione contro il Caporalato non si può tollerare. Casi di Caporalato anche durante l'ultima vendemmia. I controlli sulla vendemmia dagli enti preposti hanno verificato dei casi di Caporalato. Su questo fenomeno il presidente appunto Bonaldi ha affermato che il Caporalato è una piaga che bisogna debellare subito. Molte aziende si avvalgono di cooperative per la mano d'opera e qualche volta capita che emergano situazioni anomale. Il quadro generale a Treviso è serio, anche perché sono le stesse aziende a fare dei controlli. E spesso si affidano a cooperative che conoscono da anni e che sono fidate. Sarebbe da istituire un registro delle cooperative, dato che in primo luogo si eliminerebbe la concorrenza sleale e in secondo luogo tutti lavorerebbero in sicurezza. Lo sfruttamento verrebbe di fatto eliminato e i contratti sarebbero tutti fatti alla luce del sole. Oggi si paga dai 9 euro l'ora in su con una media intorno ai 10 euro. Noi così paghiamo le società di appalto, ma il problema scatta a volte nel rapporto tra queste società e i loro collaboratori. È qui che possono trovarsi delle zone d'ombra. Sono anche queste parole che danno a pensare, soprattutto perché si parla di sfruttamento sul lavoro. E anche questo è un diritto fondamentale, non certo lo sfruttamento, ma il diritto al lavoro e al giusto riconoscimento economico. Lasciamo il bollettino di confrarchicoltura e passiamo alla rivista Il Cadore della Magnifica Comunità. Una bellissima immagine del passo Jau con una notte stellata. Si parla di aurora boreale, questo caso un po' anche straordinario che abbiamo ammirato tutti all'inizio di novembre. Fra sorpresa e stupore, l'aurora boreale incanta le dolomiti. Qui vediamo una bellissima immagine di Belluno appunto con l'aurora boreale. In molti, la prima domenica di novembre, fra sorpresa e stupore, hanno potuto assistere a un fenomeno rarissimo quanto spettacolare. Un bagliore rosa particolarmente intenso, ma estremamente differente dal classico tramonto. Con sfumature verdeggianti e apparso all'orizzonte. Subito gli esperti hanno concordato nel dire che si trattava di un'aurora boreale. In brevi righe si spiega tecnicamente l'aurora boreale. Concludiamo con le ultime righe. L'aurora si è formata nei cieli del nord Europa a una quota elevata di circa 400 chilometri dalla superficie terrestre. Permettendoci di vedere anche dal nord Italia la sua parte più alta. Rossa per l'interazione con gli atomi di ossigeno. Bellissima l'immagine. Gli auguri dell'acidiacono del cadore, Don Diego Soravia. Per Natale ci hai dato un figlio. Ho pensato, scrive Don Diego, alla gioia in quella famiglia dove è nato un bambino. Mi dicono che è la gioia più grande della vita. Così mi piace pensare al Natale. La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro. Quella nascita è per noi, per me, per te, per tutti noi. E allora accogliamo il figlio di Dio nei nostri progetti e nelle nostre scelte. L'anno che inizia sia per tutti un cammino di speranza e di pace. Non a parole, ma attraverso gesti quotidiani di dialogo, di riconciliazione e di cura del creato. Siano questi i saluti e gli auguri che ci scambieremo con sincerità e tanta speranza. E poi cita un frammento, una poesia di Francis James, 1868-1938. O Signore, non ho come i magi che sono dipinti sulle immagini dell'oro da offrirti. Dammi la tua povertà, disse il Signore. Non ho neppure, o Signore, la mira del buon profumo né incenso in tuo onore. Figlio mio, dammi il tuo cuore, disse il Signore. Proseguiamo, un'intervista ogni mese, c'è l'intervista a un sindaco del Cadore. Questa tornata tocca a Luca De Carlo, sindaco di Calalzo, che è anche senatore a Roma per Fratelli d'Italia. De Carlo, dice, una persona si candida solo se ha una grande passione per la politica e un amore ancora più grande per il suo paese. Poi ci si chiede, l'intervistatore fa una domanda sulle criticità anche di Calalzo e chiaramente una delle criticità è l'abbandono del territorio e dello spopolamento. I cittadini chiedono soprattutto di poter continuare a vivere qui e per farlo servono soprattutto posti di lavoro adeguati ad un mondo in continua evoluzione. Poi una domanda, si parla di fusione di comuni? Risponde Luca De Carlo, credo che sia preferibile avere un'unione dei servizi, penso ad esempio ad un regolamento edilizio comune. Poi l'intervista è molto ricca e la lasciamo al vostro interesse. Proseguiamo. Un nuovo servizio interessante in Comelico, un nuovo servizio per i turisti e per il Comelico. Jasmine e Roberto Pochiesa Vecchiuto hanno aperto e gestiscono un'area di camper a Padola. Dallo scorso di novembre, ecco, Padola si è arricchita di un nuovo servizio per avventori e per i suoi abitanti. È stata una scommessa, non abbiamo esperienza nell'ambito e la struttura è completamente nuova, perché si tratta di una ristrutturazione del recupero di un'area di smessa. Senza precedenti gestori è una sua storia, quindi si tratta chiaramente di qualcosa di nuovo. Si tratta sicuramente di un servizio base che nel tempo, se il progetto dà i suoi frutti, verrà implementato. Ecco, ha il vantaggio, questa area camper, di trovarsi in un paese non lontano dai principali servizi, dagli impianti di risalita da piste di sci di fondo, e da modo di vivere una vacanza in montagna a costi tutto sommato contenuti. Poi l'idea nel cassetto è di poter proseguire, sviluppare ancora di più l'offerta, con prefabbricati in cui offrire docce sanitarie e anche un punto ristoro. Quindi una imprenditoria giovanile che fa sicuramente onore e dà sicuramente speranza alla terra bellunese. Ancora un ultimo riferimento, rinnovato in Cadore, il patto tra i rifugisti e il patrimonio mondiale Unesco. Vivere in rifugio diventa live e itinerante. Tra i progetti che i gestori hanno deciso di portare avanti c'è Vivere in rifugio, una campagna di comunicazione ideata dai gestori di rifugio delle Dolomiti per far comprendere soprattutto ai nuovi frequentatori della montagna, sempre più numerosi e sempre anche meno consapevoli, questo è un punto delicato, le difficoltà appunto legate alla gestione di un rifugio, a cominciare da quelle acuite dalla crisi climatica come rifornimento idrico. Quindi si tratta anche di educare a una buona frequentazione della montagna, perché un conto sono gli alpinisti che hanno un bagaglio di conoscenza alle spalle, un conto anche i turisti che hanno il diritto appunto di usufruire delle bellezze della montagna, ma molto spesso non hanno neanche probabilmente la capacità di intuire che più si sale in quota e più anche d'estate non è la temperatura che c'è a Bibione o a Caorle. Un ultimo riferimento, lo troviamo alla pagina successiva, pagina 14, ormai il tempo va a concludersi, è interessante il progetto Mani e Occhi. Alla Sala Cosmo di Pieve di Cadore è stato presentato il progetto laboratoriale Mani come Occhi, dedicato al tema dell'ipovisione della cecità. L'evento patrocinato dal Comune di Pieve di Cadore si è svolto grazie alla collaborazione del Lions Club Cadore Dolomita e il Museo dell'Occhiale. Nel territorio del Cadore verranno presentati due percorsi differenziati, uno dedicato ai bambini nei quali verrà offerta la possibilità di fare esperienza attraverso le letture sensoriali e uno rivolto agli adulti dove verranno insegnate le tecniche di realizzazione del libro tattile. Il fine ultimo del progetto è quello di sensibilizzare i temi della cecità e ipovisioni e di intraprendere un percorso verso l'inclusione nell'Alto Bellunese. La presenza in sala durante la serata di sabato, nel 11 novembre, ha contato circa un centinaio di persone, alta la partecipazione di insegnanti e genitori. È una notizia che sicuramente fa anche ben sperare, perché come spesso accade, anche sfogliando le pagine di queste riviste che abbiamo occasione di vedere ogni settimana, possiamo venire a conoscenza di tanto bene che si fa nella nostra terra. E come si sa, e ho detto altre volte, il bene spesso passa in silenzio. Non c'è altro tempo a nostra disposizione per sfogliare questa settimana le pagine del nuovo feltrino, come avevamo indicato all'inizio della puntata. Se riusciamo lo riprendiamo la prossima settimana. A me non resta altro che ringraziarvi del tempo che ci avete dedicato e buon proseguimento con i nostri programmi. A me non resta altro che ringraziarsi con i nostri programmi.